Prima di cominciare il video ci tenevo a ringraziarvi per il supporto che mi avete dimostrato durante quest'anno. Tante cose sono cambiate, ho conosciuto tante persone, tra cui TheRiddles, Joseph, Goddex, tutte persone che ringrazio. Inoltre tutto ciò è dovuto a voi, quindi vi chiedo ovviamente di seguirmi durante questo 2018 e vi ringrazio ancora del supporto. I vincitori del contest sono... E chi cazzo sono i vincitori del contest? I vincitori del contest sono tre. Il primo è Goddex, a primo posto, ha vinto appunto una richiesta che mi devo fare, è il numero 68 tramite YouTube. Poi abbiamo tramite Patreon, CreedHideOut, numero 91, che mi potrà richiedere una skill custom, ovvero un retexture, un recolor, un cambio d'animazione e robe varie. E inoltre Dario Dimitri mi può chiedere anche lui una skill che si è classificato al terzo posto. Niente ragazzi, questi qua sono i tre vincitori del contest, non offendetevi se non avete vinto, ce ne saranno tantissime altre occasioni per vincere. E detto questo, vi lascio al video. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo su 50 sfumature di grigio da game. No, in realtà siamo su Dokkan Battle ed è brutto fare un video bendato. Comunque, eh già. Sono accompagnato di Orazio Grinzosi in un nuovo video di Dokkan Battle dove faremo una challenge, ovvero Blindfall Challenge dove affronterò un Dokkan Event e probabilmente ci faranno il culo perché non è personaggi buoni, però dettagli. Già ve lo dico, 300 like e facciamo una summon bendati, magari sul Jap lui e io sul Global, questo poi lo decidiamo. E niente, lo lascio presentare perché se no poi mi rompe i coglioni dopo il video. Salve a tutti ragazzi, io sono Grinzosi, the Gamer, e oggi accompagneremo Farenz in questo suicidio. Minchia quanto fa schifo. Ah, togliamoci la benda perché se no non riesco neanche ad andare nel Dokkan Event e sembro di quel figlio abusivo di, che cazzo ne so, Jackie Chan, Karate Kid. Quella non è una benda, è una calza. Vabbè zitto, dovremmo essere professionali, è una benda, giuro. Andiamo in quelli per i mongoli dai. Ma vaffanculo, sei una merda. Oh, perfetto, God of Destruction, dai, sali. Bro, ma io questo evento già l'ho sentito, ma è quello con la furia? No, stai tranquillo, non è difficile. Bro, ma io so che virus in Rage Mod ti fai attacchi senza fermarsi. No, non è vero, non esiste la Rage Mod, fai tranquillo. Appena perdiamo. Giuro che scendo dove stai e ti persto a sangue. a sangue, proprio, diventi Marcos Revenge. Ed è brutto. Da notare che faccio il dissing combinato in questo modo, che non sono per niente serio. Però vabbè. Oh, guarda, è il mio Vegito Tour. Ma che schifo. Facciamo... Gogeta Int. Dovrebbe essere Attack, virus, giusto? Sì, comunque siete tranquilli, non è tutto fake. L'ho fatto io quello stage, lui non sa che cazzo è questo stage. Ecco perché l'ho già fatto. L'ho fatto io. Ecco, no, perché questo lo devo spiegare. Praticamente, Alessio cosa che fa? Mi porta avanti l'account, quando io non ho tempo, vedo sempre. E niente, vedere che ho due stones, proprio perché la spesa per potenza dei miei personaggi. Però dovrebbe farmi 200 stones per un video di summon. Eh sì, è il mio piccolo schiavetto africano. Ok. È un po' razzista questa cosa, però del taglio, non ce ne frega un cazzo. Minchia, non si vede nulla, però. E va, allora, ok, lo vedo. Vai verso... Nostra. Ah, ok. Ora vai giù. Clicca. Ma un parere adesso, ma quanto... Clicca. Sono strano con la benda. Clicca di nuovo? Clicca. Io non mi fido. Tu ti devi fidare, clicca. Allora, vediamo un po'. GDG è superattacco, ma... Aspè, ma lui non è AGL? Ah no, è il fisico, vero? Cazzo dico AGL. Gli ha fatto l'additional? Sì. Manca il tempo di respirare gli ha dato. Già qua la vedo un pochettino più dura. Ah, tre quarti fottuto. Hm? Dov'è che fa più attacchi, a Vegito o a Gogeta? Eh, lo fa... Ne fa uno a Vegito e uno a Gogeta. Ok, allora vai così. Clicca. Aspè, aspè, fammi bendare. Clicca. Clicco? Sì. Clicca. Clicca. Ma perché è a caso? Non è a caso. Ok, dai un po'. Ok. Lui dovrebbe essere hit e quindi dovrebbe tipo fargli il culo quanto una casa, no? No, no, ma allora, ma... Ok, sto dicendo perché non lo fa l'additional attack che abbiamo fatto l'ability chart? Tra l'altro, non è che li abbiamo fatto. Gliel'ho fatto. Vabbè, però comunque... Leader Potential l'ho fatto io, dai. Questo puoi dirlo. Sì. L'ha bendato, tra l'altro, eh. Ma lasciamo stare, va. Stavamo registrando un altro video che poi non uscirà. mai. Esatto. Già in Rage? Sì. Ma come? Non ti preoccupare. Vedete ragazzi, il video finisce qua perché ci farà sicuramente un culo quanto una casa, però dettagli. Allora, scendi col mouse. Ok. Tieni premuto. Vai verso sinistra. Bene così? Sì. Lascia. Ora vai un po' verso destra. Sinistra. Tieni premuto. Ok, vai un altro po' verso destra. Perfetto. Ora sali. Ok. Ah? Scegli di poco poco. Clicca. Ora clicca, clicca, ce ne sono sicuro. Clicca. Ah. Clicca. Ma perché io... Boh. Ma non li fai tutti superati. Vabbè, zitto, zitto. Guarda. Ok. Che cazzo. Non gli farà un cazzo, le sono sicuro. Appunto. Attenzione, però ho pure l'additional attack che... Minchia, quanti ne fa? Mi fa boom. Gli accounter attack, fa di tutto. Sì, ma scassissimo. Vabbè, esce. Dai, ti prego. No, l'additional attack non lo fa perché è figlio della merda, vero? Chi? Le ciambelle fanno diventare obesi. Non fanno niente. Ma quanti cazzo di Danima ha fatto con Gotenks? Boh. Tranquillo. Devo cliccare, vero? Sì, sì. Clicca. Clicca. E perché no clicca? Perché? Ma non fa lo super attack! Sei una merda. E il bello sai qual è? Che prenderai botte sul coso. Ma sono con Cuccaio. Visto che io non mi devo fidare di te. Tu volevi fare il video con Marcos Revenge. Io ti ho detto di no, fallo con me. Ma con Marcos Revenge non farei neanche... Non lo so. Perfetto. Ok, aspetta che mi bendo. Alla 50 sfumature di grigio. Anzi, di grinzosi. Sali. Ora mi farà sbagliare apposta. No! Ah, se stai chiudendo la registrazione! Cosa? Ok, ok. Tu sei pazzo? Tu sei un criminale. Dimmi cosa ci va bene. Dove cazzo è il mouse? È qua. Guardi. Ok, scendi. Mucchia, è una rottura. Sali. Ok. Scendi. Scendi. Clicca. Clicca. E che cazzo, di nuovo? No, clicca. Però almeno qua le special ability, le super, come cazzo si chiama, non le fa. Almeno questo. Speriamo che ti vengono l'attacco su Goten. Peccato. Vaffanculo. Da notare come Goten, anzi, come Goten provi a fare qualcosa, me la te è scarso come la merda e quindi non riesci a fare niente. Cioè, apprezziamo l'impegno. Sperando che ora con questo Gogeta faccia un, magari, un additional. Speriamo. Ma lui li fa sempre l'additional. No, Gogeta no. Ah, Gogeta no. Non so oggi. Però gliel'abbiamo potenziato l'additional. Ah no, quello è... Quello è... Ah, beh, vaffanculo. Ok, 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 ma che cazzo devo fare? Salgo. Ora scendi. Ma che cazzo? Ora sali. Ora sali, ora scendi. Clicca. Ok. Ok. Clicca. Clicca. Non cliccare. Vai un po' verso sinistra. E ora vai verso destra. Ma che cazzo? E ora sali. Clicca. Ok, vediamo cosa mi fa combinare questo disgraziato. Allora, tecnicamente la furia non la dovrebbe avere più, giusto? E... E hai il pigiama? No. No, è ancora più peggio. Ah. Vabbè, non abbiamo vinto. Spero. No, non abbiamo vinto. Vincere al prossimo round. Bastardo. Se non mi sciotta. Perfetto. Ok. Che cazzo devo fare ora? Bene. Scendi. Clicca. No, aspetta. Scendi un altro po'. Clicca. Clicca. E clicca. Speravamo di aver vinto. No, non abbiamo vinto. Cazzo. Lo sai perché? Non c'è fottuto hint. Quindi non lo shottiamo, bro. Tranquilo. Tranquilo, non lo shottiamo al prossimo. Che problema c'è? Vabbè, però mi scasso le palle. A stare un'altra volta è ben dato. Non lo vuoi monetizzare, stai zitti. Ah, giusto. Allora va bene ragazzi, finiamo al prossimo turno. Secondo me lo putta giù a colpire additional. E se svegliate il filo di puttana. No, no. Tanto non è in Rage Mode. Ora vai in Rage Mode a caso, gli viene il ciclo. Va di nuovo in Rage Mode? No, ok. Vabbè. Non averne nessuno ad averne due. Vabbè, GG. Vabbè. Vabbè, dai. Vabbè, scendi. Clicca. No, aspetta, sali. Ok, no. Clicca. Clicca di nuovo mentre che ci siamo, no? No. Vai un po' verso sinistra. No, sei un co... Io clicco e vaffanculo. Ah, ah. Ah, che bello togliersi sta benda. E in realtà non abbiamo neanche vinto, ve l'ho immaginata. Ok, abbiamo vinto, me devo stare zitto. E niente ragazzi, vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine. Non faccio l'altro bendato perché non mi va proprio. E niente, ringrazio pure Grinzosi di aver partecipato al video e di essere il mio piccolo schiavo che mi fa male cose su Dokkan. Lasciate un mi piace, commentate il video e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo al canale. Seguitemi sia su Instagram sia su Facebook dove pubblico dei aggiornamenti riguardo al canale. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione per parlare con me e i altri dei riddles. E niente ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Ferraz, bella! Un saluto da Ferraz, bella! Grazie a tutti. Grazie a tutti.